Marek, stai giocando sicuramente bene, un leggero calo di rendimento in qualche partita, però il livello è buonissimo. Però vogliamo sapere, precisamente, vista la posizione che stai occupando, cosa ti dice Benitezzi di fare cosa? Di essere libero, di poter venire più dietro a prenderti la palla, di buttarti dentro quando Higuain ti apre lo spazio? Quali sono i movimenti che ti chiede in questa posizione da unico dietro la prima punta? Sono tanti i modi di esprimere quel gioco là, il mister è che sono più alto e prendo palla dietro il centrocampo di Arvessari. Io provo di fare bene, come ho fatto sempre, fare felici ai tifosi, aiutare per prima la squadra, è quello che conta. Gonzalo ti chiede qualcosa di particolare, Benitezzi lo stai facendo anche se per il momento, l'hai detto tu, l'abbiamo visto tutti, non sei al massimo della condizione, non eri al meglio, però otto gol, qualche assist è arrivato. Questo ruolo così difficile da interpretare, secondo te riuscirai a farlo ancora meglio di quello che abbiamo visto quando la condizione migliorerà e a che punto siamo? Ti senti vicino alla condizione ottimale? Buono, è vero che ho sofferto un infortunio che mi ha lasciato fuori qualche tempo, ma po' a po' sono giocando molti minuti. Sì, prima abbiamo parlato di utilizzare bene i minuti, la ultima partita è giocato 90 minuti senza problema, è vero che manca un po', ma rispetto al mister non so se è molto differente, ma sì, il campionato italiano è differente all'espagnolo, è più tattico e buono, per questo è buono per me, per imparare oltre calcio che mi va a migliorare e il mister mi fa giocare tranquillo, con fiducia e la verità mi sento troppo bene qua.